Gina Lollobrigida nacque a Subiaco, in provincia di Roma, il 4 luglio 1927, seconda dei sei figli di Giovanni Lollobrigida, un facoltoso produttore di mobili che perse le sue proprietà a causa di un bombardamento anglo-americano e di Giuseppina Mercuri. Era nipote di Chelidonia Merosi, supercentenaria già decana d'Italia, e suo padre era un cugino del nonno del giornalista sportivo Marco Lollobrigida. Era inoltre nipote del fratello del bisnonno del politico Francesco Lollobrigida e sorella del nonno della pattinatrice Francesca Lollobrigida. Nel 1944, ancora prima dell'arrivo degli alleati, la famiglia si trasferì a Roma e Gina fu iscritta all'Istituto di Belle Arti. La situazione economica della famiglia non era più benestante, quindi per mantenersi agli studi vendeva caricature disegnate col carboncino e posava per i primi fotoromanzi, usando lo pseudonimo di Diana Loris. Nella primavera del 1947 partecipò al concorso di Miss Roma, classificandosi al secondo posto. Questo successo la portò a partecipare alle finali di Miss Italia a Stresa, dove arrivò al terzo posto, dopo Lucia Bosè e Gianna Maria Canale, entrambe destinate a diventare stelle del cinema come lei. In quell'anno, alla manifestazione, parteciparono anche Eleonora Rossi Drago e Silvana Mangano, anch'esse future celebri attrici. Nel 1944, durante gli anni della guerra, Gina Lollo Brigida si trovava sfollata insieme alla sua famiglia nella zona di Todi. Appena diciassettenne, usando il cognome Lollo Brigida, interpretò il ruolo di Corinna nella commedia Santa Rellina di Edoardo Scarpetta. Lo spettacolo andò in scena il venerdì 8 settembre 1944, diretto da Luigi Tenneroni al Teatro della Concordia di Monte Castello di Vibio, il più piccolo teatro all'italiana del mondo. Nel 1947, ancora con lo pseudonimo di Diana Loris, fu protagonista in uno dei primi fotoromanzi italiani intitolato Nel fondo del cuore, pubblicato a puntate sulla rivista Sogno. Lollo Brigida iniziò la sua carriera cinematografica come comparsa e controfigura, per poi ottenere piccoli ruoli di contorno nei popolari film operistici dell'immediato dopoguerra. Silvana Pampanini ricordava con malizia di averla scelta per una particina in una pellicola della quale era protagonista. Nel 1950, dopo i primi successi, Gina Lollo Brigida ricevette un'offerta da Hollywood, accettando l'invito del miliardario Howard Hughes, celebre produttore e scopritore di div come Jane Russell. Tuttavia, quando si rese conto che stava per essere chiusa in una gabbia dorata, decise di tornare precipitosamente a Roma. Il contratto in esclusiva che aveva già firmato le impedì fino al 1959 di lavorare negli Stati Uniti, ma non in produzioni statunitensi girate in Europa, come poi effettivamente avvenne. Gina Lollo Brigida ottenne una serie di successi nei primi anni della sua carriera. Nel 1949 recitò in Campane a martello di Luigi Zampa e nel 1951 in Actung Banditi di Carlo Lizzani. Sempre nel 1951 fece parte del cast di Passaporto per l'Oriente, diretto da vari registi. A questi si aggiungono Fanfan la Tulipe di Christian Jacques e Le Belle della Notte di René Clerc, entrambi del 1952, e interpretati insieme a Gerard Philippe, che la consacrarono come stella in Francia. Nel 1952 conquistò una vasta popolarità anche in Italia, con Altri tempi di Alessandro Blasetti, nell'episodio Il processo di Frine, accanto a Vittorio De Sica, che coniò per lei il termine maggiorata fisica. Nel 1953, ancora con De Sica, interpretò il personaggio della bersagliera in pane, amore e fantasia di Luigi Comencini, premiato con il nastro d'argento e candidato al BAFTA. Questo ruolo la portò definitivamente nell'immaginario collettivo, grazie alla sua caratterizzazione della bella popolana povera, dal cuore d'oro ma anche risoluta e determinata. Nel 1954 recitò in La Provinciale di Mario Soldati e nel 1955 in La Romana di Luigi Zampa, che le fece vincere la grolla d'oro a Saint Vincent. In seguito affrontò ruoli più drammatici e maturi, come In mare matto, 1963, di Renato Castellani, accanto a Jean-Paul Belmondo, e In un bellissimo novembre, 1969, di Mauro Bolognini, considerati tra le sue migliori interpretazioni come attrice drammatica. Dai primi anni 50, Gina Lollo Brigida divenne protagonista di produzioni internazionali e hollywoodiane di grande rilievo. Nel 1953 recitò in Il tesoro dell'Africa di John Huston, accanto a Humphrey Bogart e Jennifer Jones. L'anno successivo fu nel cast de Il maestro di Don Giovanni, 1954, di Milton Krims, con Errol Flynn. Nel 1955 interpretò il ruolo di Lina Cavalieri in La donna più bella del mondo, di Robert Zeta Leonard, accanto a Vittorio Gassman, ruolo che le valse il David di Donatello come migliore attrice protagonista. Nel 1956 recitò In trapezio di Carol Reed, accanto a Burt Lancaster e Tony Curtis, ottenendo un grande successo. Successivamente fu la splendida e sensuale esmeralda in Il gobbo di Notre Dame, 1956, di Jean Delanoi, con Anthony Quinn nel ruolo di Quasimodo. Nel 1959 apparve in Sacro e profano di John Sturges, con Frank Sinatra e Steve McQueen, e in Salomone e la regina di Saba, di King Vidor, con Yul Brynner e George Sanders. Durante questo periodo partecipò anche a due film apprezzati dalla critica, sebbene meno fortunati al botteghino, Anna di Brooklyn, 1958, di Vittorio De Sica e Carlo Lastricati e la legge, 1959, di Jules Dassin, in cui recitò insieme a Marcello Mastroianni, Yves Montand e Melina Mercuri. Nel 1961 Gina Lollo Brigida recitò in Vannuda per il mondo di Ronald McDougal, accanto a Ernest Bornein e Anthony Franciosa. Nello stesso anno fu protagonista di Torna a settembre di Robert Mulligan, insieme a Rock Hudson, Bobby Darin e Sandra Dee, per il quale vinse un Golden Globe come miglior attrice del mondo. Alla cerimonia degli Oscar del 1961 consegnò il premio Oscar al miglior regista a Billy Wilder per il film L'appartamento. L'anno successivo recitò con Stephen Boyd nel film In costume venere imperiale di Jean Delanoi, nel ruolo di Paolina Bonaparte, ruolo che le valse un David di Donatello e un nastro d'argento come migliore attrice protagonista. Nel 1964 apparve nel drammatico La Donna di Paglia di Basil Dirden, accanto a Ralph Richardson e Sean Connery. L'anno successivo fu nel cast di Strani Compagni di Letto di Melvin Frank, nuovamente in coppia con Rock Hudson. Durante quegli anni partecipò sia a film italiani di vario genere come La bellezza di Ippolita, 1962 di Giancarlo Zagni, Io, Io, Io e gli altri, 1966 di Alessandro Blasetti, Le piacevoli notti, 1966 di Armando Crispino e Luciano Lucignani e La morte ha fatto l'uovo, 1967 di Giulio Questi, sia a produzioni straniere come Hotel Paradiso, 1966 di Peter Glenville, L'amante italiana, 1966 di Jean Delanoi e Le avventure e gli amori di Miguel Cervantes, 1967 di Vincent Sherman. Nel 1969 partecipò agli spettacoli televisivi The Dean Martin Show e, in Italia, stasera Gina con la regia di Antonello Falqui. Nel 1968 la sua brillante interpretazione in Buonasera, signora Campbell, di Melvin Frank le valse una candidatura al Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale e, il terzo, David di Donatello alla migliore attrice. Sempre nello stesso anno apparve come guest star nel satirico Mesh, la guerra privata del Sergente O'Farrell di Frank Tashlin con Bob Hope e Phyllis Diller. Successivamente si cimentò anche con lo spaghetti western prendendo parte a, e continuavano a fregarsi il milione di dollari, 1971 di Eugenio Martin, accanto a James Mason e Lee Van Cleef. Nel 1972 recitò con David Niven in Un ospite gradito per mia moglie di Jersey Skolimovski. L'anno successivo, dopo una partecipazione in Peccato mortale di Francisco Rovira Beleta, si allontanò dagli schermi cinematografici. Il suo ritorno avvenne nel 1995 con il film Cento e una notte di Agnès Varda, dove interpretò la moglie di Jean-Paul Belmondo, seguito da una breve apparizione in Nixie Kell, 1997, di Ariel Zaitoun, con protagonista Gérard Depardieu. Gina Lollobrigida rifiutò diversi ruoli significativi nel corso della sua carriera, tra cui La signora Senza Camelie, 1953, di Michelangelo Antonioni, Giovanka e le altre, 1960, di Martin Ritt e Lady L, in cui avrebbe dovuto recitare ancora insieme a Tony Curtis, ma le riprese furono interrotte nel 1965 a causa di contrasti con il regista George Cukor. Fu sostituita rispettivamente da Lucia Bosé, Silvana Mangano e Sofia Loren. L'attrice dichiarò di aver ricevuto un'offerta per recitare anche in La dolce vita, 1960, di Federico Fellini, nel ruolo della fidanzata di Marcello Mastroianni, ma sembra che all'epoca il marito le nascose il copione e così quella parte venne assegnata a Yvonne Furnò. Inoltre rifiutò la parte della protagonista accanto a Valentina Cortese nel film spagnolo Nido de Viudas, 1977, di Tony Navarro, perché non pagata, venendo sostituita da Patricia Neal, e di prendere parte alla telenovela argentina Milagros, 1994, perché incapace di reggere il ritmo veloce delle riprese. Gina Lollo Brigida ha avuto una carriera poliedrica che include non solo l'interpretazione cinematografica, ma anche la fotografia, la scultura e l'attività televisiva. Nel 1972 ha interpretato la fata turchina nel fortunato Le avventure di Pinocchio, di Luigi Comencini, esordendo così in una produzione televisiva. Questo adattamento rimane ancora oggi un'opera di culto nella memoria del pubblico di varie generazioni. Dopo aver raggiunto l'apice della popolarità, ha iniziato a diradare le apparizioni sul grande schermo a partire dal 1973, dedicandosi alla fotografia, ritraendo personaggi famosi come Paul Newman, Salvador Dalì, Henry Kissinger, David Cassidy, Audrey Hepburn e Della Fitzgerald. Ha anche pubblicato diversi libri di reportage e si è dedicata alla scultura, esponendo le sue opere in tutto il mondo. Nel 1984, all'età di quasi 60 anni, è apparsa nel celebre serial statunitense Falcon Crest, ballando la tarantella e guadagnandosi una candidatura al Golden Globe come miglior attrice non protagonista in una serie televisiva. Successivamente ha recitato in altre produzioni televisive, tra cui la miniserie Inganni nel 1985 e due episodi di Love Boat nel 1986. Nel 1988 ha preso parte al remake televisivo della Romana, diretto da Giuseppe Patroni Griffi, interpretando il ruolo della madre della protagonista, interpretata da Francesca Dell'Era, con cui ha avuto delle tensioni. Successivamente, la sua presenza sullo schermo si è limitata a ruoli cameo, apparendo saltuariamente in televisione e al cinema, come nelle commedie francesi Cento e una notte, diretta da Agnès Varda nel 1995 e Ixi Kisselle, diretta da Ariel Seytoun nel 1997 e, nella fiction, Una donna in fuga. Nel 1996 è stata premiata con il David di Donatello alla carriera, un riconoscimento che sottolinea il suo contributo significativo all'industria cinematografica italiana. Nel 2006, in occasione del cinquantenario del David di Donatello, ha ricevuto un riconoscimento speciale, celebrando il suo ruolo come prima vincitrice del premio nel 1956. Nel 2010 è stata ospite di Pippo Baudo nella trasmissione Novecento, dove ha avuto l'opportunità di raccontare la sua lunga e illustre carriera come attrice, fotografa e scultrice. Nel 2011, dopo 14 anni di assenza dal cinema, è tornata sul grande schermo con una partecipazione nel film Box Office 3D, il film dei film, diretto e interpretato da Ezio Greggio. Alla fine dello stesso anno, è apparsa per la prima volta, insieme a Sofia Loren, nel documentario Schubert, l'atelier della dolce vita, di Antonello Sarno. Nel maggio 2012, è stata ospite d'onore alla cerimonia del David di Donatello, dove ha condiviso alcuni aneddoti della sua straordinaria carriera d'attrice. Il 2 febbraio 2018 ha ricevuto un ulteriore prestigioso riconoscimento quando è stata dedicata una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame, diventando così la quattordicesima personalità italiana a ricevere tale onorificenza. Nel 1999 si candidò al Parlamento Europeo con la lista di centrosinistra I Democratici, presentandosi sia nella circoscrizione dell'Italia centrale che in quella meridionale. Anche se ottenne oltre 10.000 preferenze complessive, non fu eletta. Successivamente, nell'agosto del 2022, venne annunciato che si sarebbe candidata alle elezioni politiche in Italia. Si presentò come candidata al Senato nel Collegio Uninominale di Latina e, in altre circoscrizioni, nel plurinominale proporzionale, incluso quello della Sicilia orientale, per la lista Italia sovrana e popolare. Questa lista includeva diverse formazioni politiche, tra cui il movimento Azione Civile, guidato dal suo avvocato personale Antonio Ingroia. Tuttavia, non è stata eletta a causa del mancato raggiungimento della soglia di sbarramento da parte della lista. Nel settembre 2022, dopo una caduta che le causò la rottura del femore, Gina Lollobrigida fu ricoverata e successivamente sottoposta a un intervento chirurgico. Poi fu nuovamente ospedalizzata in una clinica privata a Roma, dove si spense il 16 gennaio 2023, all'età di 95 anni, a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. La camera ardente fu allestita il 18 gennaio presso la sala della Protomoteca nel Palazzo Senatorio al Campidoglio e, il giorno successivo, con diretta su Rai 1, si tennero i suoi funerali presso la chiesa degli artisti in Piazza del Popolo a Roma. Alla fine della cerimonia, la salma fu trasportata nella città di Subiaco per la sepoltura nel cimitero locale, come da suo desiderio. Nel gennaio del 1949, Gina Lollobrigida sposò il medico sloveno Milko Shkofić sul Monte Terminillo, dove prestava servizio presso i profughi temporaneamente alloggiati a Cinecittà. Nel luglio del 1957, la coppia ebbe un figlio, Andrea Milko Shkofić, il quale in seguito diede loro un nipote, Dimitri, nato nel 1994. Nel 1971, Gina Lollobrigida divorziò dal marito, dal quale era separata da almeno cinque anni, in quanto egli aveva già intrapreso una relazione con la cantante lirica austriaca Ute de Vargas. A partire dagli anni 50, Gina Lollobrigida visse in una grande villa sull'Appia Antica a Roma, sebbene negli ultimi anni, avesse trasferito la sua residenza ufficiale nel Principato di Monaco. Il 26 marzo 2011, il quotidiano El Mundo diffuse la notizia di un presunto matrimonio segreto tra la diva e lo spagnolo Javier Rigao, a Barcellona, nel novembre del 2010. Tuttavia, non vi sono registrazioni ufficiali del matrimonio civile nella città catalana, poiché si sarebbe svolto solamente un rito religioso per procura. Lollobrigida successivamente affermò di essere stata ingannata attraverso una falsa procura da lei firmata e la questione finì in tribunale. Rigao, accusato nel processo, fu successivamente assolto. Il processo fu trasmesso dal programma Un giorno in pretura su Rai 3, ma l'episodio fu cancellato su richiesta della stessa Lollobrigida. In seguito, il matrimonio fu sciolto tramite dispensa papale. A partire dal 2007, Gina Lollobrigida fu nominata cittadina onoraria di Pietrasanta, dove organizzò la sua prima mostra di scultura. Nel luglio del 2013 mise all'asta 22 gioielli della sua collezione, firmati bulgari, presso Sotheby's a Ginevra, con il ricavato destinato a opere di beneficenza. L'asta fruttò 3.800.000 euro, con il pezzo più prezioso venduto per 1.850.000 euro, un paio di orecchini con perle e diamanti. Nel maggio del 2018, a quasi 91 anni di età, l'artista rivelò al giornale Libero di essere stata vittima di uno stupro all'età di 18 anni nel 1945, quando era ancora vergine. Il colpevole, un noto calciatore della Lazio, non fu denunciato né fu resa nota la sua identità. Tale evento tragico segnò profondamente la vita di Lollobrigida, che affermò di aver preso la decisione di sposarsi a causa di quella violenza subita, e non per amore. Gina Lollobrigida aveva l'abitudine di parlare di se stessa in terza persona.